Sofonia, capitolo primo. La parola dell'Eterno che fu rivolta a Sofonia, figliuolo di Cusei, figliuolo di Ghedalia, figliuolo da Maria, figliuolo d'Ezechia, ai giorni di Giosia, figliuolo di Amon, re di Giuda. Io farò del tutto perire ogni cosa di sulla faccia della terra, dice l'Eterno. Farò perire uomini e bestie. Farò perire uccelli del cielo e pesci del mare. Le cause d'intoppo assieme con gli empi esterminerò gli uomini di sulla faccia della terra, dice l'Eterno. Estenderò la mano su Giuda e su tutti gli abitanti di Gerusalemme, esterminerò da questo luogo i resti di Baal, il nome dei preti, degli idoli e dei sacerdoti, e quelli che si prostraron sui tetti davanti all'esercito celeste, e quelli che si prostrarono prestando giuramento all'Eterno e prestando giuramento anche a Malcom, e quelli che si ritraggono dall'Eterno e quelli che non cercano l'Eterno e non lo consultano. Silenzio davanti al Signore all'Eterno, poiché il giorno dell'Eterno è vicino, poiché l'Eterno ha preparato un sacrificio, ha santificato i Suoi convitati, e nel giorno del sacrificio dell'Eterno avverrà che io punirò tutti i principi e i figlioli dei rei e tutti quelli che indossano vesti straniere. In quel giorno punirò tutti quelli che saltano sopra la soglia che riempon di violenza e di frode le case dei loro signori. In quel giorno, dice l'Eterno, sudrà un grido dalla porta dei pesci, un urlo dalla seconda scinta e un gran fracasso dalle colline. Urlate, o abitanti di mortaio, poiché tutto il popolo dei mercanti è annientato. Tutti quelli che erano carichi di denaro sono sterminati, e in quel tempo avverrà che io frugherò Gerusalemme con delle torce e punirò gli uomini che, immobili sulle loro fece, dicono in cuor loro, l'Eterno non fe né ben né male. Le loro ricchezze saranno abbandonate al saccheggio, e le loro case ridotte in una desolazione. Essi avranno costruito delle case, ma non le abiteranno. Avranno piantato delle vigne, ma non ne berranno il vino. Il gran giorno dell'Eterno è vicino. È vicino! Viene in gran fretta. So di venire il giorno dell'Eterno, e il più valoroso grida maramente. Quel giorno è un giorno d'ira, un giorno di distrette e d'angoscia, un giorno di rovine e di desolazione, un giorno di tenebre e di caligine, un giorno di nuvole e di fitta oscurità, un giorno di suon di tromba ed allarme contro le città fortificate e le alte torri. E io metterò gli uomini nella distretta, ed essi cammineranno come ciechi, perché hanno peccato contro l'Eterno, e il loro sangue sarà sparso come polvere, e la loro carne come scrementi. Né il loro argento, né il loro oro li potrà liberare nel giorno dell'ira dell'Eterno, ma tutto il paese sarà divorato dal fuoco, dalla gelosia, giacché egli farà una totale, una subitanea distruzione di tutti gli abitanti del paese. Sofonia Capitolo Capitolo Radunatevi, radunatevi assieme, o nazione spudorata, prima che il decreto abbia effetto, prima che il giorno passi come la pula, prima che venga su di voi l'ardente ira dell'Eterno, prima che venga su di voi il giorno dell'ira dell'Eterno. Cercate l'Eterno voi tutti, umili della terra che praticate la sua legge, cercate la giustizia, cercate l'umiltà, forse sarete nascosti nel giorno dell'ira dell'Eterno, Poiché Gaza sarà abbandonata e Ashkelon diventerà una desolazione, scacceranno Ashdot con violenza in pieno mezzogiorno e Decron sarà sradicata. Guai agli abitanti della costa del mare, alla nazione di Cheretei, la parola dell'Eterno è contro di te, o Canaan, paese dei Filistei, io ti distruggerò e non rimarrà più nessuno. Così la costa del mare sarà tutta pascole con dimore per i pastori e recinti di greggi. La costa apparterrà al residuo della casa di Giuda, in quei luoghi pascoleranno le greggi, a sera riposeranno nelle case di Askelon perché l'Eterno, il loro Dio, li visiterà e li ricondurrà dalla cattività. Ho udito il disprezzo di Moab e gli oltraggi dei figli di Amon, con i quali hanno insultato il mio popolo e si sono ingranditi a danno del loro territorio. Perciò, come è vero che io vivo, dice l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele, certamente Moab sarà come Sodoma e i figli di Amon come Gomorra, un luogo occupato dalle ortiche e saline, una desolazione per sempre. Il resto del mio popolo li saccheggerà e il residuo della mia nazione li possederà. Questo avverrà loro per la loro superbia, perché hanno insultato e trattato con arroganza il popolo dell'Eterno degli eserciti. L'Eterno sarà terribile contro di loro, perché farà piegare tutti gli dèi della terra e ciascuno lo adorerà dal suo luogo, sì, tutte le isole delle nazioni. E anche voi, etiopi, sarete uccisi dalla mia spada. Egli stenderà la mano contro il nord, distruggerà la Siria e farà di Ninive una desolazione, un luogo arrido come il deserto. Nel suo mezzo si accovacceranno le greggi, tutti gli animali delle nazioni, tanto il pellicano che l'Aerone passeranno la notte sui capitelli delle sue colonne. La loro voce risuonerà alle finestre, la desolazione sarà sulle soglie, perché distruggerà il rivestimento con pannelli di cedro. Questa è la città gaudente che, e se ne stava al sicuro, diceva in cuor suo, io e nessuno altro fuori di me. Come mai è diventata una desolazione e un luogo dove gli animali si accovacciano? Chiunque le passerà vicino fischierà e agiterà la mano. Sofonia, capitolo terzo Guai alla città ribelle, contaminata, alla città d'oppressione. Essa non dà ascolto ad alcuna voce, non accetta correzione, non si confida nell'Eterno, non si accosta al suo Dio. I suoi capi in mezzo a lei sono leoni ruggenti, i suoi giudici sono lupi della sera che non servano nulla per la mattina, i suoi profeti sono millantatori perfidi, i suoi sacerdoti profanano le cose sante, fanno violenza alla legge. L'Eterno è giusto in mezzo a lei. Il fuoco della mia gelosia. Manda grida di gioia, o figliola di Sion, manda grida d'allegrezza, o Israele, rallegrati ed esulta con tutto il cuore, o figliola di Gerusalemme. L'Eterno ha revocato le sue sentenze contro di te, ha cacciato via il tuo nemico, il re d'Israele. L'Eterno è in mezzo a te, non avrai più timore alcuno né alcun male. In quel giorno si dirà a Gerusalemme, non temere o Sion, le tue mani non si infiacchiranno. L'Eterno, il tuo Dio, è in mezzo a te come un potente che salva. Egli si rallegrerà con gran gioia per via di te, si acqueterà nell'amor suo, esulterà per via di te con gridi di gioia. Io raccoglierò quelli che sono nel dolore, lungi dalle feste solenni. Sono tuoi, sul loro gravalo proprio. Ecco, in quel tempo io agirò contro tutti quelli che t'opprimono. Salverò la pecora che zoppica e raccoglierò quella che è stata cacciata e li renderò gloriosi e rinomati in tutti i paesi dove sono stati nell'onta. In quel giorno io vi ricondurrò, in quel tempo vi raccoglierò, poiché vi renderò rinomati e gloriosi fra tutti i popoli della terra, quando farò ritornare sotto i vostri occhi quelli che sono in cattività, dice l'Eterno. Grazie per la visione!